e ciao a tutti ragazzi benvenuti oggi in questo nuovissimo video oggi siamo su minecraft e oggi vi farò vedere una mod come vedete alle mie spalle c'è già un cane che è bellissimo e oggi faremo la mod dei cani ma non solo tipo un po di animali più razze di cani e allora ho preparato due cest una con le cose della mod e una con tutte le uova iniziamo con il il doberman doberman ciao mi scusi però dovrei sì proprio dovrei fare questo perché sennò ho sbagliato dovrei fare proprio questo scusami oh crisi e tini si spogliere tutto doberman dopo fare no mi dispiacerebbe far così perché sono troppo belli sono così si deve fare adesso questo qui lo buttiamo facciamo così e mettiamo ragazzino c'è non ho preparato niente solo le ceste con le cose basta oh mio dio ci vediamo dopo quando ce l'avrò fatta a mettere a posto e ragazzi ops ho sbagliato buttiamo ho sbagliato ancora buttiamo l'uovo ok andiamo a prendere un altro uovo ah sì vi troverete un personaggino che vorrà vendervi un cane ok però se notate fa rumore del villager scusa cane mi dispiace per lui sapete qual è la mia razza preferita e ve lo scopriete che carinissimo sei carinissimo ah sei carinissimo tu non ti uccido tu sei salvo ok allora possiamo buttarci questo e questo ok ok no così deve stare poi anche a posto dai no non io il guinzaio il guinzaio il guinzaio si è salvato mi so che feghe ok prendiamo un foxtreer oh che carina ma quanto cavolo è veloce state state mi dispiace tutti ucciderli così ma vi vi assicuro che faremo una vanilla con tutto questo davvero una vanilla con tutto questo vediamo questo un riccio gli animali così piccoli io non li chiedo e mi piacciono mi piacciono tanto tanto si mi piacciono tanto tanto pensavo che non cadeva TOE la mia razza preferita di cane la mia razza preferita di cane bortel colli ma questo maaauh che bello che bello che sei che bello ma che carino che sei sei carino ma sei un carlino sei carlino io dico ah tutte le cose che sono carine le chiamo carline state carline ok andiamo sul bigolle bello bello però mi disposto che devo uccidere ma no eh 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 il bar dei cogli ragazzi non posso ucciderlo perchè è sacro questo il dash ah ma questo qui è un po' sotto vabbè sei carinissimo carinissimo ah no quanto sei carino ragazzi io non voglio mai fare non si fa male i cani si tiene sempre bene è il mio animale preferito li amo e non si devono mai adottare per niente o maltrattare i cani i cani si devono amare e basta ok uova goldfish uh aspetta vado a prendere l'acqua no acqua a acqua acqua no rip non è successo niente andiamo al prossimo eeeh cos'è cos'è è super carino ma non capisco cos'è forse l'ho già visto ma non so che cosa ma papagallo ma papagallo non sei un pesce lui pensa di essere un pesce anche l'unico più intelligente il mio amore cos'è spaunato sotto i miei piedi avevo visto qualcosa vabbè ah madonna iniziamo con questo qui di famiglia box lo sapevo ok quello preferito di mia sorella indovinate qual è vabbè lo vedrete perchè so che c'è american akita siiii questo qui è bello eh è bello solo che vi dico però ti devo dire come tutti gli altri tanti no dai non non buttarti anche te e tu stai lì bravo e boxer c'è una minaccia per la terra tu no scherzo ok mmm consigliatemi anche altre altre eh questa qui l'ho già vista altre razze di cani che vorrete vedere qui cioè che vorrete vedere no questo qui proprio non mi piace è l'unica razza che non mi che non mi piace è quella col muso fium cioè si capisce però il fisico cioè a vederlo così un po' mi piace tranne il muso un po' mi piace dai mi dispiace tutti ucciderli io voglio bene a tutti i cani anche se non sono le mie razze preferite che bello ahuu è tutto pieno ah tutto pelusone ciao ciao ti chiamo pelusone ma te ti lascio perchè sei troppo peluso fai bruciare tu fai bruciare la lava oh scusate per il brutto eh vediamoci anche il secchio che non abbiamo capito se troviamo delle cose oh che carino sembra ma sembra preoccupato intanto adesso non sarai preoccupato di non morire perchè ormai sei così non sarai mai più preoccupato così no ancora questo cos'è 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 questo qua lo lascio questo qua mi piace un sacco mi piace un sacco il pastore tedesco prendiamo il eccolo qua san bernardo il uno dei primi cani più forti cioè più grandi al mondo è quello preferito di mia sorella questo dan 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 questo qua lo lascio adesso fra poco lo lascio tutti i cani ok oh madonna questo qui è il doppio del san bernardo occupi troppo spazio scusa però si è bellissimo ok di sicuro nella vita reale saranno o più belli o più brutti però oh mio dio oh oh che schifo io io odio ma odio i i i i barboncini questi qua c'è poverini ma non è colpa loro perchè loro non vogliono essere pettinati così però oh fanno impressione questo qua ha i denti fuori no 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 i denti fuori questo non può andare a cittare nessuno sei bellissimo ma perchè l'hanno fatto con i denti fuori allora tutti possono avere i denti fuori vero? nessuno ok ok facciamo così facciamo più veloce tec 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 eeeh facciamo tutti i cani facciamo la seconda parte aspettate che decido eeeh facciamola facciamo ancora un po' di cani dai lasciamo solo questa riga chihuahua ma che melodica fare di farli sono rimasti quelli più ingombranti pure chihuahua cioè non ingombranti no anzi cioè stanno in un blocco questi ruoli qua adesso tu rimani qui ecco non ti uccido perchè mi fai pieno ok passiamo al prossimo allora il pug di carlino beh aveva troppo di trasera carlino 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 va andate in giro intanto mettiamo queste queste due razze di cani una sabbia e un'altra la sabbia me la devo tenere perchè in tutti questi cioè vuoi appena ok questo qua sarà l'ultimo carlino la tetterri aspetta vado bravo ma leva ma leva ma allora se io se io faccio così faccio così lei va avanti ma può salire un blocco penso di no e proviamo a vedere tar la tartaruga di minecraft contro la tartaruga real life vediamo cioè un po' real life mamma eheh eheh questa qui è di terra piccola bella questa qui è di acqua gigante vabbè vai a fare i figli davvero davvero devo fare questa cosa una tartaruga dovrebbe andare così vediamo se è di acqua quella lì nooo finisco dentro i carlini eheh facciamo eheh ok così è di acqua i dati giacorai eheh eheh il papagallo che vuole essere un pisce ma non ci riesce come te sto sto popolando tutto questo cane corso eheh eheh il video finirà con questo cane corso vediamo no ah madonna ma quanto grande eheh non idea mi dispiace ma l'ho dovuto fare eheh ragazzi questo video proprio lo chiuderò così per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto al prossimo video riaprivo il mondo non voglio far scappare tutti quei cani per quello che faccio così eheh allora ci vediamo alla seconda parte test dei cani che vedremo anche la cuccia e tutte quelle altre cose eheh ci vediamo al prossimo video ciao